Amici e amiche, io sono Kenobit, qua con me oggi c'è Marta Palvarini Marta Palvarini che è già apparsa più volte su Kenomattina Abbiamo parlato del suo gioco di ruolo ecopunk che è Duralande Potete recuperare se volete la live su youtube o su twitch Era stata una chiacchiera molto interessante Ma oggi siamo qui per parlare di un altro progetto Che è Stonewall 1969 Che è lanciato su kickstarter giovedì scorso Ha raggiunto il suo goal di kickstarter giovedì scorso se non sbaglio Cioè letteralmente il giorno in cui è uscito Venerdì mattina alle 5 E vabbè, venerdì mattina alle 5 conta ancora come giovedì nella numerazione romana E Marta innanzitutto su Duralande il progetto era tutto tuo Qua invece che ruolo hai ricoperto? Io qua faccio l'editrice e basta La coeditrice assieme a tutte le altre del collettivo editoriali da serie spedizioni E l'autore è Stefano Burchi invece L'autore vero a questo giro è Stefano Burchi Che ha fatto un lavoro pazzesco Eh ma infatti allora Io ne... Come ti dicevo questa mattina Fuori onda io non ho studiato molto Per questa intervista chiacchierata So cos'è Stonewall Avevo seguito Perché ovviamente viviamo nella stessa orbita Avevo visto che c'era questo gioco in sviluppo Ma io so solo che è un gioco ispirato Un gioco di ruolo Ispirato ai moti di Stonewall Pensato per delle one shot Vuoi raccontarci più nel dettaglio quello che io ho detto? Certo Allora i moti di Stonewall innanzitutto Sono stati il primo vero riot di persone LGBTQ+, persone razzializzate, persone povere E intersezione di questi aspetti Ma soprattutto persone LGBTQ+, anche povere, anche razzializzate A New York, negli Stati Uniti nel 69 Che cosa successe? Perché è così importante Stonewall? Perché dopo Stonewall le persone si organizzarono per le prime volte in assemblee E diedero vita a quello che oggi è il Pride, a tutti gli effetti Attraverso riunioni, attraverso assemblee Si scatenò quella che è l'onda Pride che conosciamo oggi Che copre tutte le città Per questo lo slogan che riportiamo Che è uno slogan dei movimenti LGBTQ+, è proprio quello La prima volta fu rivolta Il primo Pride fu una rivolta, effettivamente E cosa si fa in questo gioco? È un gioco per 3-4 persone Che attorno a un tavolo È un gioco di ruolo senza master, senza dadi Quindi non immaginatevi di costruire il vostro personaggio Con abilità super drag 5 Ovviamente no È un gioco invece su delle persone possibili Che potevano attraversare realmente Quegli luoghi, quegli spazi Durante il 69 E la storia di queste persone Come si affacciano alla rivolta Come prendono parte alla rivolta Come si rapportano con una situazione di oppressione costante Oppressione costante perché ai tempi letteralmente essere LGBTQ+, era illegale Dovevi avere un massimo di X vestiti che erano adatti al... Dovevi essere vestito e vestita in modo completamente aderente al tuo genere Non potevi ovviamente scambiarti in alcun tipo di effusione Sia per strada che in privato in realtà in alcuni stati degli Stati Uniti Quindi era una situazione veramente tesa di oppressione Con tanto di ride della polizia nei bar LGBTQ+, Uno di questi bar era lo Stonewall Inn Dove tra l'altro si consumava una situazione ancora più complessa Era molto particolare come luogo Perché era uno dei pochissimi bar in cui si poteva ballare vicini In cui si poteva effettivamente avere qualche tipo di contatto fisico all'interno del bar Ballare i lenti, banalmente, una cosa che non si poteva fare in altri bar gay più, diciamo, borghesi Più aderenti a uno stereotipo che poteva essere più accettabile e reso accettabile alla società tutta Di base la storia che si va a raccontare è quella dei personaggi che si interpretano Nei loro relazioni, interrelazioni con tutto un cast di personaggi pregenerati Quindi si possono avere 14 personaggi Si sceglie tra questi 14 personaggi un personaggio e si interpreta quel personaggio Non c'è master, quindi anche c'è una figura di facilitatore Che aiuta in qualche modo il tavolo Conosce forse un pochino meglio le regole Se è studiato o studiata il manuale per riuscire a gestire tutte le situazioni al tavolo Ma interpreta anche lui o lei un personaggio In questo si racconta una storia che si divide in atti E in questi atti si prova a strutturare quella che è una fiction In maniera molto registica, molto simile a una cosceneggiatura, una co-regia di un film In maniera molto cinematografica anche su tutti gli effetti Infatti il trailer dello studio Carabas, che intanto viene proiettato Che sono i nostri grafici, che ci hanno dato una mano enorme Un po' riprende questo immaginario cinematografico Che purtroppo in qualche modo manca Perché i film su Stonewall sono abbastanza brutti Non sono rappresentativi di quello che fu e quello che è stato a questo momento Un altro dato importante non è un gioco storico È un gioco che prende dalla storia, ma che prende anche dal mito Perché Stonewall è a tutti gli effetti un mito per la comunità LGBTQ+, È un momento unico, talmente importante Che viene anche mitizzato a tutti gli effetti Quindi mixa questi due elementi Ci sarebbe un sacco da dire Però questa è l'infarinatura generale Allora, nel frattempo Il gioco Game Studio dice Siamo orgogliosamente back, Erbacini, Marta Ecco, ricordatevi che tutto questo in questo momento è su Kickstarter Quindi lo potete supportare direttamente il progetto Luca Fonti dice Che bella idea Nel 2019 ho visto una mostra sui morti di Stonewall al New Museum Ed era molto bello conoscere la situazione sociale della comunità LGBTQ+, di quegli anni Eh sì, anche perché Cioè, e lo dico da persona eterocis Certe storie per me sono state invisibili Nel senso che non esistevano per me Cioè, non c'erano Non esistevano E quindi Non solo è bello, è anche abbastanza importante Secondo me C'è una domanda di Cuckoo Che è interessante E anche se, vabbè Immagino di sapere la risposta Perché chiede Come mai il gioco è stato pensato per delle one shot Per far evolvere un personaggio stigmatizzato, tra virgolette Potrebbe essere d'aiuto Vai Marta Ma è un gioco pensato per le one shot Qua riporto le parole di Burki Di Stefano Burki, filtrate Della mia comprensione sul suo lavoro, ovviamente È un gioco pensato per una one shot Perché una one shot Si può percorrere tutto un filone narrativo ben specifico Nel prologo Faccio un esempio Il prologo è tutti gli effetti L'atto zero del gioco Si vedono subito i personaggi Si inquadrano i personaggi Bisogna narrarli All'inizio della rivolta Negli atti ultimi Si va invece a prendere i personaggi Proprio da quel punto lì Questo qui è un trucco cinematografico È un trucco di gioco di ruolo Che permette un'evoluzione del personaggio Tra questa fase iniziale e la fase finale Di mezzo c'è un atto in cui si racconta dell'infanzia Un atto che in realtà è suddiviso su due giri di scene Che viene utilizzato per narrare tutte le situazioni di esplorazione Del personaggio Della propria sessualità Del proprio genere All'interno della comunità del Greenwich Village Quindi attorno allo Stonewall È un atto ancora di effettiva paura Di tensione che aumenta Che si sente al tavolo questa tensione che aumenta Proprio perché è un'escalation Per poi culminare nella rivolta In questo senso l'intensità narrativa Nel giocare una one shot non cala Non ci si perdono pezzi La one shot dura Dipende dal numero di persone al tavolo Che sono tre o quattro Sempre tre o quattro Dura dalle tre ore e mezza alle cinque ore Oltre cinque ore non ho mai visto niente durare Quindi richiede del tempo effettivamente Richiede di mettersi a un tavolo Il pomeriggio secondo me È il momento migliore Una bella domenica pomeriggio Una situazione di questo tipo per chi può È ottima Perché giocare online Ecco è una cosa che stiamo sviluppando Per esempio È un ulteriore dato possibile Attualmente il gioco rende a suo meglio al tavolo Stiamo sviluppando la parte online Grazie a Chaos League Che è un collettivo di LAR per italiani e italiane Che ci darà proprio una mano Nello sviluppare questa possibilità di gioco Che però sviluppa il gioco Su un livello successivo ulteriore Perché come vedete Ci sono una serie di componentistiche Abbastanza Fisiche Fondamentali Esatto Non sono componentistiche che Sono semplicemente degli add-on Di cui puoi fare a meno Sono componentistiche fondamentali Per visualizzare al meglio la storia Che si ha davanti E per aiutarsi proprio Nell'errare questa storia Di fatto è una componente Quasi da gioco da tavolo Nel senso Quella parte Quella componente fisica Che spesso viene dimenticata Nei giochi di ruolo Perché Spesso viene dimenticato Che i giochi di ruolo Partono dall'essere Principalmente Delle cose giocate Con riferimenti Fisici Vabbè ovviamente Miniature Tutto un altro discorso Però A me piace molto Come Piace molto come impostazione Anche perché L'oggetto In sé È ludico Comunque Cioè C'è una parte Proprio divertente Nel manipolare Poi Chiaro Evviva giocare online Nel senso Certo È molto meglio Giocare di persona Però io come sono stato Contento di poter giocare online Specie di questi tempi No ma infatti Ci rendiamo conto Che è proprio una cosa Fondamentale Il giocare online Anche a me piace Ormai mi sono abituata Fantissimo A giocare online E quasi Gioco Quasi esclusivamente Online In realtà E devo dire che Era fondamentale Per noi Provare a sviluppare In questa direzione È Già parte del progetto Questa collaborazione Con Caos League Quindi Ci sarà A tutti gli effetti La versione Giocabile online Spezzare la one shot È molto sconsigliato Ecco Un ulteriore dato Perché proprio Si perde un po' Quel livello di tensione E potenza Narrativa Infatti Comunque Tra l'altro Ricordiamo che Siamo su Kickstarter E avete fatto Una bellissima scelta Allora C'è una roba Che di Kickstarter Mi sta facendo Veramente Passare la pazienza E dammi un euro E scrivo il tuo nome Sul mio bidet E dammi Cinque euro Ti mando una foto Di me Che batto Che batto Il cinque E Oppure dammi Quattromila euro E scrivo che sei Il producer Del gioco Voi avete fatto Due Due livelli Uno Con il print and play Quindi Una versione ottimizzata Per essere stampata Quindi in maniera Molto economica E la versione La versione Prestige Con Tutto stampato da voi Con la scatola E un po' Di cose Che sono quasi Sono quasi dei prop Di fatto Gli archidosi E tutto E poi c'è L'ottimizzazione Per il gioco online Gli stretch goals Perché allora Il progetto Ha già raggiunto Il suo Traguardo Che Non trovo più Però vabbè L'ha già raggiunto 8 mila euro 8 mila euro E Avete già raggiunto Il primo stretch goal E quindi Verranno fatti Tre nuovi personaggi Dalla Gilda Chi è? Cos'è? Che realtà è la Gilda? La Gilda È il gruppo di gioco Del castro LGBT center Di Bologna È un gruppo LGBTQ plus Che si occupa Di istanze LGBTQ plus E di base Si occupa di Trasversalità Nei contesti ludici E a tutto tondo Portare Delle istanze Che sono Quelle un po' Dell'inclusività Della possibilità Di rendere Dei luoghi Veramente attraversabili Da tutti e tutte Nell'ambito ludico E La Gilda Sono un gruppo Meraviglioso Che in realtà Fa parte di questo progetto Da ben prima Di questo stretch goal Ci ha aiutate A portarlo in giro Per l'Italia A playtestarlo A farlo provare ovunque E Anche Ad amarlo Ancora di più Nel senso che Proprio Hanno dato un supporto Fondamentale Allo sviluppo Di questo gioco Che dal 2016 È in playtest Quindi Di base È un gioco Che Già c'è Funziona I materiali playtest Scaricati Dalla pagina Sono Effettivamente Come Quasi come Sarà il gioco Il gioco Necessita di editing Di sensitivity reading Di ulteriori Approfondimenti Di ragionamenti Qualche limatura Sicuramente Ci dovrà essere Però di base Se volete già farvi Un'idea del gioco Potete andare Sulla pagina Del playtest Cliccare Scaricare Pagina del playtest Che dove trovo? All'inizio Del Tutto quanto Qua subito sotto Ah Guardala qua Che figata E vedi Te avevo detto Che non avevo studiato niente Questo Chiaramente Un impaginato Provvisorio Temuraneo Provvisorio Tutto poi Era fatto È messo bene In ordine Dai nostri grafici Studio Carabas E però Di base Per me È veramente Fondamentale Provare il gioco Adesso Perché secondo me È già Un gioco Completo È un gioco Probabile A tutti gli effetti È un gioco Che richiama Al cento per cento Quello che vuole essere L'esperienza Definitiva Che poi si va ad offrire Perfetto Scusami Io in realtà Sono anche curioso Degli stretch goal Certo Chi è Ron Edwards? Sono ignorantissimo Ron Edwards È un autore Molto noto Che ha scritto Giochi come Troll Babe È uno dei Fondatori Di The Forge Una delle voci Ah certo Potenti Su The Forge È uno degli scrittori Degli ideatori Del big model Di The Forge Che è proprio Una concezione Di gioco A tutti gli effetti Ma noi lo chiamiamo Non come Forgita Come si dice In gergo Ma come Esperto Su un dato Fondamentale Ovvero La vita Negli anni 60 Come si è autodefinito In una call Con noi Il buon Ron Da boomer Qual è La quasi boomer Qual è Può effettivamente Darci Una prospettiva Di supporto ludico Per giocare Gli anni 60 Non è importante Realmente L'ambientazione Nel senso che Chiaramente Essendo un gioco storico Una serie di cose Possono essere Sbagliate Al tavolo Si può dire Ah vabbè Prendo Prendo un taxi E vado qui Quando chiaramente Una persona Magari Dello Greenwich Villa Non poteva sicuramente Prendere un taxi O avere i soldi Per un taxi All'epoca Quindi Ci sono tutta una serie Di dati Che possono essere sbagliati Chiaro che però Ron farà un lavoro Di Immaginazione Di narrazione Immaginifica Di quello che era Il contesto sociale Un contesto in cui Non si poteva scrivere Un messaggio Per dire Oh guarda Mi sento sola Sto male Per questo Era così importante La comunità Per questo Era così importante Un intero luogo Un intero Micro quartiere Degli isolati Messi insieme Per questo Erano così fondamentali E così Così importanti Tutti questi dati Sociali E Ron farà questo lavoro Di base Ma io questa roba qua La trovo Fenomenale Anche perché Il gioco Cioè noi siamo abituati A vedere il gioco Il videogioco Il gioco di ruolo Come Semplicemente Una forma Di intrattenimento Fantasioso Cosa che può essere Che è spessissimo E che mi piace Tantissimo Ma Ci sono Cioè il gioco Può essere un modo Devastante Per raccontare Per raccontare storie Sia il videogioco Sia il gioco di ruolo E Tutta questa serie Di esperienze Io Non le ho vissute Non le ho Non sapevo Che esistessero Per me Cioè ripeto Da maschio Cis Per me Questa roba qua È stata Ignota Completamente Finché non mi sono Imbattuto Nella divulgazione E in tutto Ma Trovo molto potente Il concetto Proprio di Gioco di ruolo Perché il gioco di ruolo Prevede Un'interpretazione Un'immedesimazione È proprio potente A livello empatico Secondo me Infatti io non vedo Ti dico proprio Molto onestamente Non vedo l'ora di Non vedo l'ora di Giocarci A Stonewall E magari Se ti va Possiamo organizzare Un pomeriggio Qua Un pomeriggio Online In cui Lo In cui lo Giochiamo Appena avremo La versione online Pronta Eh esatto Potremmo usare Veramente La scusa Della 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 versione Online Pronta Per Per provarlo E ti dico Allora Una delle mie parole Preferite degli ultimi anni È Sovversione Perché Secondo me È importante E secondo me È Letteralmente Sovversivo Nota bene Intendo sempre In accezione Molto positiva Visto che il mondo Va di merda Sovversivo È sempre positivo Non colgo Accezioni negative Esattamente È Veramente Sovversivo Raccontare le cose Tra l'altro in modo empatico In modo Perché Molta gente Cioè mi imbatto Ovviamente anche Facendo lo stream Eccetera A volte ti imbatti In delle persone Che pensi Ma magari Non sei cattivo Però ti stai comportando In maniera cattiva Perché ti mancano Di riferimenti Poi magari Sei stronzo Per davvero Però C'è anche Una possibilità Che se tu Ti informi E conosci Magari Un cuore Ce l'hai E dici Ah ok Però aspetta Aspetta un attimo Perché Veramente Tante Dall'alto Del mio privilegio Io certe cose Non le ho mai Neanche immaginate Lontanamente Ma proprio Non Neh No ma certo Infatti Sul giocare online Sarà sempre Complesso Perché poi Tra l'altro Una cosa che fa Questo gioco È portare anche Il linguaggio Degli slar Effettivi Al tavolo di gioco Quindi Chissà Twitch Come risponde A questo aspetto È molto È una bellissima domanda Ce la porremo Ma io Farò di tutto Per riuscire a Organizzare Questa sessione Qui da te Wow È interessante Allora guarda Nel peggiore dei casi Nel peggiore dei casi La possiamo La possiamo Organizzare Su discord La possiamo Registrare La possiamo mettere Su Su youtube E o Posso provare A parlare Con i partner manager Di twitch Per vedere Se questa cosa È Fattibile Perché Sicuramente 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 Nel momento In cui Dico la parola Con la F In stream Se c'è qualcuno Che magari Anzi Magari Con motivazioni Opposte Alle nostre Segnala Twitch Vede solo Che io ho detto La parola Con la F Perché non c'è Un procedimento Umano Dietro a quello Però Indagheremo Indagheremo Uh Comunque È molto Interessante La questione Degli slur Allora Cos'è uno slur Gli slur Sono È una parola Che purtroppo Abbiamo Cioè purtroppo Una parola Che abbiamo Importato Dall'inglese Perché Nota da traduttore Perché definisce Un concetto Molto preciso Lo slur Non è Non è Necessariamente La parolaccia Ma è un'espressione Fortemente Discriminatoria Nei confronti Di una Precisa Categoria Può essere Di vario tipo Che fa leva Su Stereotipi Su Insulti E può essere Più o meno Volgare Ma è Il punto Non è la volgarità Il punto È che è una parola Che Che discrimina E È un tema Complicato Perché Quello Dietro ogni Slur Ci sono Un sacco Di questioni Perché C'è la questione Del Reclamare Uno slur È una cosa Molto Che succede Che è successa Più volte Nel corso della storia Che una parola Inizialmente Utilizzata Solo con accezione Negativa E discriminatoria Per esempio La famosa N word La parola Con la n Che si usava In America Per parlare Principalmente Degli schiavi È stata Poi Reclamata Dalla Dalla comunità nera Americana Dal rap Eccetera Fenomeni Simili Stanno Cioè Succedono Anche Nella comunità LGBTQ Plus E però E questo lo dico Veramente Con estrema sincerità Da persona Eterocis È un terreno Difficile Dal quale Io normalmente Mi tengo Molto Lontano Perché Non Non so mai Quando Lo potrei Usare Senza Essere Offensivo E quindi Nel dubbio È molto facile Non lo uso E quindi Mi affascina Come avete affrontato La questione degli slur Nel gioco Allora Di base C'è tutta una nota Sul linguaggio L'utilizzo del linguaggio Oltre a Tutta una parte Di trigger warning Dei temi affrontati Anche questa Potrebbe essere Problematica Per una live su twitch In realtà I temi Problematici Esistono Ci sono degli strumenti Di sicurezza Molto 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 Ben sviluppati Da Stefano Che permettono Di affrontarli Non si evitano Quindi non c'è Un effettivo Sfuggire A una situazione Complessa Violenta E tosta In game Perché è il cuore del gioco Il cuore del gioco E l'oppressione Ci sono modi Per renderla A tutti gli effetti Meno impattante Sulla persona E aggirare In qualche modo Quello che è L'impatto Fortissimo Che può avere Uguale sul linguaggio Sul linguaggio Facciamo una riflessione Che è Quella Il linguaggio È parte Dell'oppressione Stessa Delle persone LGBTQ plus Quindi anche Quindi anche L'utilizzo Del dead name All'interno Proprio Di quello che è Quel mondo E quell'immaginario Anche sulle schede Dei personaggi Alcuni personaggi Transgender Per esempio Hanno il dead name Perché A tutti gli effetti È Una violenza Che subiscono Una parte fondamentale Della violenza Che subiscono E le schede Sono pensate Come una sorta Di schedatura Da parte della polizia Perché Per le persone LGBTQ plus Erano schedate Infatti Ce l'abbiamo Esattamente qua L'estetica È esattamente quella Esattamente quella Quindi tu hai Di fronte Tutte le cose Che fanno male A quella persona Cioè È davanti E per questo Crei un processo Empatico Con il personaggio Che diventa Persona A tutti gli effetti Diventa persona Possibile È un po' Uno degli scopi Del gioco Far crescere Dei personaggi Di fronte a te Anche attraverso Proprio gli strumenti Del linguaggio E dell'oppressione Diretta attraverso Il linguaggio E chiaramente Anche i moti Di rivendicazione L'utilizzo Di determinate Parole per rivendicarsi Qualcosa Hanno un peso All'interno Di una narrazione Anche in maniera Completamente Astorica Come la rivendicazione Del termine queer Che non è più Uno slar Da un sacco di tempo Per esempio È qualcosa Di rivendicato All'interno del gioco A me è capitato Di avere sessioni di gioco In cui in maniera Completamente antistorica C'era la rivendicazione Del termine queer Ma va bene così Va bene così Perché il punto Non è rappresentare Una realtà storica In quanto tale Il punto è raccontare Una storia Che sia importante Che sia fondamentale E forte Dal punto di vista Della narrazione Di quei momenti Di quei Di quei movimenti Per la comunità LGBTQ plus Guarda Questo è una Da persona Che lavora Con le parole Questo tema Lo trovo Tanto affascinante E uno Non vedo l'ora Di giocare E uno Non vedo l'ora Di leggere Come è stato affrontato Perché Veramente È un tema Che ha una quantità Di sfaccettature Incredibili E penso Che sia Allora Per me Si traduce Concretamente In ricchezza Perché Il saper usare Con consapevolezza Il linguaggio Anche su Su queste tematiche Che non è che Non mi riguardano Ma non mi coinvolgono Di solito È potentissimo È interessantissimo E tu pensa Quanta roba Si può fare Con un gioco di ruolo Un sacco di roba Si può fare Cioè tu stai Vai No Anche quello che dicevi prima Era super interessante Perché ponevi Ci sono giochi di ruolo E giochi di ruolo È vero Sono sempre giochi di ruolo Non abbiamo una tassonomia Per diversificare Una cosa come Ose Che abbiamo giocato La scorsa volta Lanciando della cacca A Dei giganteschi Cosi di cacca Che ci venivano contro Gestiti da Nicola De Gobis Chiaramente Stonewall è un gioco diverso Sono Ogni gioco È differente Bisogna leggere I manuali di gioco Leggere i regolamenti Capire cos'è quel gioco Parlare con il gioco Prima di giocarlo E poi proporre Quell'esperienza Al tavolo Dicendo Questo gioco Parla di questo Fa questo In questo modo Si capisce Cosa si vuole Veramente giocare Perché Sono esperienze Veramente Completamente diverse Di una delle altre Con ibridi Nello spettro Del Mi sto solo divertendo Sto giocando Un'esperienza Profondissima Che mi farà piangere Al tavolo di gioco Chiaramente È uno spettro Amplissimo In cui c'è Di mezzo di tutto Puoi anche Metterti a piangere Quando giochi a Warhammer 40.000 Quanto mi riguarda Io stamattina Stavo per mettermi A piangere Giocando a Mario World Quindi Come dire È sempre un discorso Estremamente relativo Però È chiaro Che un manuale di gioco Il design del gioco stesso Parla di Cose fondamentali Quali temi I toni E di cosa parla il gioco Qual è l'obiettivo del gioco Bisogna Captain64 Dice Sante parole Bisogna leggere I manuali del gioco Bisogna capire Quali temi Vuole portare al tavolo Il game designer È veramente un dialogo Ma a parte che Io poi trovo divertentissimi Io purtroppo Confesso che ho Un sacco di giochi di ruolo Che non ho mai giocato Ma che ho letto Con passione Cioè Sono Comunque informativi Cioè C'è un sacco di Di roba Interessante Allora Due Parliamo un secondo Con la chat Innanzitutto ringrazio Tutti quelli che dicono Nel caso Vi presto Il Vi presto il mio account E fate le live che volete Vi ringrazio Ma Per quello che so io Funziona che se io vado Sul canale di Marta E faccio qualcosa Di orribile Magari bannano il suo canale Ma bannano me E Quindi No Comunque Ci informeremo Perché questa è In realtà Una questione Cioè Quella del venire Bannati Se Usi Certe parole È Un tema Bollente Perché succede su Instagram Succede Cioè Per Instagram Non fa nessuna differenza Io che sparo Un insulto Omofobico A una persona E Invece una persona Della comunità LGBTQ plus Che Rivendica l'uso E questo E questo è un problema Degli algoritmi Ed è un problema Di internet Ed è una roba Spacciata per meccanismo Di protezione Che in realtà Poi tanto Non Protegge Ma Quindi Grazie per Grazie per l'offerta C'è C'è gente Che propone Di farlo con maschere Da lottatore mexicano Non è male Che non è male Come idea Comunque Un po' Un po' Altra L'appropriation Se non mi piace Esatto Beh sì Eh sì Quello è Slippery slope Slippery slope Cikibe Ha scritto In una storia Su Instagram Qualcosa che condivido Moltissimo Dice un economico In tv Non è l'essere Maschio etero Cis A renderti un problema Assolutamente no Ma è Cosa fai Del tuo privilegio Di maschio Di maschio etero Cis Il problema è assolutamente Quello E il problema Ogni volta Che io già mi vedo I commenti sotto youtube Perché qua su twitch Abbiamo una community Molto molto bella Su youtube Ogni tanto Arrivano I passanti Tipo Sì fatti la quarta dose Ricoglionito Un commento Che è capitato Letteralmente Sì sì Così ma gratis Cioè in un In un video Nel quale dicevo Tra l'altro A me non me ne frega niente Se Vi vaccinate o meno Secondo me Il problema Che abbiamo tagliato I fondi Alla sanità E io ho la terza dose E Ah coglione Fatti la quarta dose Su youtube è così E Mi aspetto Dei commenti così Perché spesso C'è chi si sente In Marta mi prende sempre in giro Non Marta tu Marta mia moglie Che mi dice sempre Che se mi dici qualcosa Io Scatto di Lesa maestà Sicuramente È un problema Che ho Fortunatamente Non su queste tematiche Perché quando Qualcuno dice Guarda che in quanto Maschietto Eterocis Hai Una quantità di privilegi Che non Che probabilmente Non realizzi Nemmeno di avere Uno si offende Perché È come Cioè se la vedi male È come se mi dicessi Che sono stronze Invece no Mi stai solo dicendo Che sono Fortunato Cioè che ho Che sono Neanche fortunato Che sono privilegiato E cosa fai con quel privilegio È tutto il Il succo Anche perché poi Applausi a questa frase E poi siamo Cioè siamo intersezionali Quindi il Il privilegio Va Va su vari assi E puoi essere Privilegiato In tantissimi Modi E Vabbè Insomma Ho un'ultima domanda Marta Sempre Sempre sul linguaggio Perché io so Che il linguaggio Può essere Molto traumatico Nel senso Se Cioè gli slur Anche Motivo per cui A volte mi arrabbio Quando dice Ma Fatti venire la pelle spessa Ma cosa sarà mai È una parola Cose che dicono Persone Che non si sono Che non sono mai state Realmente discriminate Me incluso E Però So che Certe parole Alcune più di altre Sono delle coltellate Certo Come è gestita Questa cosa Nel gioco Strumenti di sicurezza Sempre Quindi Strumenti Che sono Una via di mezzo Tra Corrigia E Effettivamente Mostrare Che si è in difficoltà Una determinata situazione Che permettono al tavolo Di parlarsi Tutti gli effetti Una cosa che Alle volte Che in realtà Piano piano Sta In qualche modo Applicando a tutti I giochi di ruolo Anche In Dungeons and Dragons Possono usare Gli strumenti di sicurezza Sono fondamentali Perché Ti permettono Di parlare Di quello Di quello Che stai provando Di quello che In quel momento Il tuo personaggio Anche magari sente Quindi Si trasferisce su di te Con quello che Si viene chiamato Il bleed Quindi il passaggio Di emozioni Tra personaggio E player E tra player E personaggio Quindi È qualcosa di fondamentale Il sistema di sicurezza Questo sistema di sicurezza È stato craftato Apposta Per Stonewall Da Stefano E pensato proprio per Come vi dicevo Un'ottica molto chiara Con una parola chiave Che è Non ti abbandonerò È una delle premesse Del gioco Se ti siedi a questo tavolo Non ti abbandonerò Non siamo da sole Non stiamo parlando A uno specchio Stiamo parlando tra noi Stiamo ragionando Insieme una storia Stiamo raccontando Insieme una storia Non dobbiamo farci Del male Dobbiamo raccontare Una storia Dobbiamo Farci assorbire Da questa storia E batizzare Quei personaggi Anche poi Potenzialmente In qualche modo Subire dei Dei contraccolpi No? Sulle nostre esistenze Ci sono persone Che dopo aver giocato Questo gioco Persone che dicevano Ah io ai pride Non ci vado Perché i pride Li trovo inutili E dopo aver giocato Questo gioco Vanno ai pride Banalmente E questo E questo E questo è il potere Sovversivo Del gioco Cioè il potere Sovversivo Del gioco Cioè una Io non ci ho ancora Giocato Ma Mi sono fatto Un'idea E non vedo l'ora Di giocarci E mi sembra Un modo Veramente Molto potente Per Comunicare Delle cose Che non sono Nemmeno facili Da comunicare Nel senso Sono delle Cioè se tu Se tu te ne sei fregato Fino a oggi Della Di tutta la questione Di tutta la causa Non ne sai Non sai niente Non sai niente E c'è un sacco di roba Da metabolizzare C'è proprio un sacco Un sacco di Storie Concetti Elementi E Un gioco Cioè noi Impariamo giocando Da quando Sin dall'infanzia E quindi Un gioco In quest'ottica È Potentissimo E ti dico Non vedo l'ora Di giocarci Anche perché Mi affascina Come Con il gioco Di ruolo Si possano Appunto Raccontare Delle cose Complicate Cioè delle cose Cioè raccontare Le sfumature È bellissimo Cioè quello che mi dici Che persone Che dicevano No il pride È inutile Mi sembrano Delle ostentazioni Ma insomma Ma di qui Dopo avere Dopo Dopo avere giocato A stonewall Vanno Vanno al pride Anche perché Mi dà molta Mi dà molta speranza Cioè è più È brutto pensare Che viviamo in un mondo Solo di merda Destinato a essere Per sempre di merda Non è male Invece L'idea Di poter spostare Il segnalino A sinistra Di un pochettino E Fare dei passettini Insomma Da qualche parte Beh sì Io penso Che ogni piccolo passo Sia Appunto Sovversivo Cioè penso Che ogni Ogni minima coscienza Spostata Di un pixel È comunque Meglio È comunque Meglio Meglio di niente Io non ti abbandonerò E il nessuno Si farà del male Sono le tecniche Di Emily Care Boss A cui Si è ispirato Stefano Molto intelligentemente Dice GDR Unplugged Mi girate il link Del kickstarter Ma sono uno scemo Scusami un attimo Non ho ancora Non ho ancora Linkato il kickstarter Allora Lo linko E anzi Vi invito a cliccarci Tut E anche A Rilincarlo E anzi Se vi va Linkatelo in giro Cioè se La live Di oggi Vi è Risultata Interessante Potete condividere Il Kickstarter E Magari anche Se volete Anche la live Che può essere Un ottimo modo Per Spiegarlo Un pochettino Più nel Un pochettino Più nel Dettaglio Che figata Che figata Marta Sono molto contenta Sono molto contenta Onestamente anche Che stia andando bene Perché Stia andando molto bene Siamo molto soddisfatte Soprattutto soddisfatto Stefano Perché questa è una cosa Fondamentale Dopo tutto il lavoro Che ha fatto Per mettere insieme Appunto Strumenti di sicurezza Diversi A creare sistemi Mixarli insieme E creare E creare questo gioco Che abbiamo Davanti agli occhi E' bello E' bello Arrivare fin qui In tutti gli effetti Una cosa importante Che dico Se volete Provare a giocare Un gioco simile Perché alla fine Stonewall Nasce come Hack Di questo gioco Monsegur 1244 Ripetimi lo spelling Monsegur Monsegur Non so mai La pronuncia 1244 Edito d'Italia Da narrativa E Ah Monsegur Ok scusami Sì Monsegur Sì sì Sono io che sono ignorante No ma anche io Io non so Cioè io non ho un problema Sulle pronunce Sempre Quindi io non È un bel gioco Si divide sempre In strutture adatti Anche questo E parla del sedio Sull'ultima roccaforte Dei Catari Chiaramente Stonewall Elabora molto Mixa E fa Fa molto di più Però Diciamo che Uno dei Concept Alla base Del gioco È questo E infatti C'è la scatola C'è il tabellone Ci sono delle carte Ci sono dei richiami Effettivi Una cosa Che in cui si differenzia Moltissimo È chiaramente La strutturazione Del personaggio In Monsegur Sia veramente Un Un input Sul personaggio Su Stonewall Il personaggio Che si ha di fronte È Molto più certificato E complesso Poi chiaramente Si va Ad adattare A quello che il giocatore La giocatrice Vuole portare al tavolo Non è chiaramente Un copione scritto Nessuna parte Però È un È un insieme di input Molto forti Wow Così per dare ulteriori Carne al fuoco Carne al fuoco Carne al fuoco È È Fighissimo Aggiungere carne al fuoco E Appunto Cioè mi sembra Che ci sia Allora c'è un'espressione Degli inglesi Che a me Che piace un sacco Che mi piace un sacco Mutuare Traducendolo a uno a uno Che si chiama There is a lot to unpack Sì E a me piace tradurlo Uno a uno Alla grezza C'è un sacco di roba Da spacchettare Ed è vero C'è un sacco di roba Da spacchettare Stonewall 1969 E war story RPG Tra l'altro Scusami Ultima domanda Per davvero C'è in italiano E c'è anche in inglese Sì Esatto Quindi Potete Non solo Linkarlo Sui social italiani Ma anche se Appunto Magari Vivete all'estero Come so che alcune persone Della chat Fanno Potete anche Linkarne La versione Inglese Anche perché io mi immagino Onestamente Che Abbia Un grosso potenziale Cioè Internazionale Perché mi sembra Una storia Giusto un filo sentita Da molte persone E Con una punta di ottimismo Ti direi anche Che mi sembra Che il mondo sia pronto A A giocare di ruolo Qualcosa di simile Spero anch'io Sicuramente in Italia Sì In Italia È girato molto Ed è stato Largamente apprezzato E Questo è anche il motivo Per cui abbiamo fatto Abbastanza in fretta Il gol iniziale Credo C'era comunque A spalle una community Che ha sentito Sin da subito Il gioco E L'ha provato L'ha giocato L'ha rigiocato Più volte Persone che hanno giocato Anche dieci volte Ecco È un gioco Non è un gioco Cioè un gioco One shot Nel senso Che la sessione Inizia E finisce Ma non è un gioco One shot E poi lo bruci Non è legacy Non è legacy Non è legacy No 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 È rigiocabilissimo Anzi Davvero Con un solo Con Anche un Il cambiamento Di un solo Personaggio All'interno del cast Di quelli Che vengono portati In gioco Modifica Completamente L'assetto Ma poi Ogni persona Specialmente Se si cambia Le persone Al tavolo Ogni persona Gioca i personaggi In modo Differenti Le storie Sono sempre Differenti Gli spunti Narrativi Date dalle carte Comunque Vanno Sempre a modificare L'assetto Di quella Che è la giocata Quindi Ha un tasso Di rigiocabilità Molto alto Dimostrato Da Tutte quelle persone Che sono venute E venute A rigiocarlo Nel corso Degli ultimi anni Ecco Quindi si Che figata Che figata Sono molto contento È sempre Marta È veramente Sempre un piacere Fare Fare due chiacchiere Con te C'è Larry Gasborn Che si abbona E siamo vicinissimi A questo target Irrealistico Di 380 abbonamenti Che abbiamo messo Benissimo Verni Marche John Line Benissimo Noi tra poco Raideremo Raideremo VerniMark E Tra l'altro Marta Prima o poi Devi venire Nella sala Di VerniMark Perché è un posto Veramente È un posto Veramente Mistico Mistico Incredibile Ricordiamo di nuovo Stonewall 1969 È World Story RPG Lo trovate in italiano Lo trovate in inglese Lo trovate su Kickstarter Lo trovate su Kickstarter E basta Al momento È pubblicato Da Asterisco Edizioni Che tra l'altro A parte tutto Asterisco Edizioni È una realtà Che vi consiglio Di tenere d'occhio Banalmente Non me lo sto sognando Anche Duralander È uscito Con Asterisco C'è un sacco Di roba C'è un sacco Di roba Interessante C'è un sacco Di roba Molto interessante Uno degli obiettivi Di Kenobi Sboc Di quest'anno È anche un pochettino Promuovere Alcune realtà Della cultura Sempre Perché il discorso Che la cultura È sovversiva Adesso metterò Farò Prendete la swear jar Che quando dici una parolaccia Metti dentro Una monetina Adesso farò la sovversivo jar Ogni volta che dico la parola sovversivo Metto dentro un euro A fine giornata Sono ricco Ricco Quindi Amici Marta Ti ringrazio tantissimo Grazie mille Fabio Grazie a tutte Tutti